Stai cominciando o vuoi cominciare a realizzare delle fotografie bellissime avvalendoti dell'utilizzo di una luce flash? Nel corso del video di oggi ti farò vedere alcune luci flash e andremo a cercare di capire qual è la migliore per le tue esigenze. Ricordo a tutti che sto realizzando una serie di video sull'utilizzo delle luci flash, motivo per cui invito tutti quanti a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così non vi perdete i prossimi video e andate a recuperare anche quelli già usciti. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni, utilizzo il flash più o meno da quando ho iniziato a fotografare. All'inizio tutti quanti utilizziamo l'unico flash che abbiamo a disposizione, ovvero quello incapsulato sulle nostre fotocamere, ma ben presto ci rendiamo conto che questa non è la soluzione migliore e possiamo avere di più. Andiamo dunque a vedere quali sono le diverse tipologie di flash che possiamo utilizzare e qual è il flash più adatto alle nostre esigenze. Come abbiamo già detto il flash sulla fotocamera non è quasi mai la soluzione migliore perché è un emettitore piccolo, è una luce che è in linea con l'obiettivo e quindi ci produce l'effetto occhi rossi e avremo l'ombra direttamente dietro al nostro soggetto, è difficilmente regolabile e non possiamo fare quasi nulla di professionale con un flash del genere, è proprio giusto un salvavita se siamo in emergenza e non c'è luce. Andiamo a vedere qualcosa di un tantino più progredito. Questo che vi faccio vedere è un flash di cui abbiamo già parlato, è un flash cosiddetto a cobra o speedlight, è un flash di casa canon ma il discorso che facciamo oggi vale per tutti i brand, se avete un flash a cobra di godox o di nikon o di qualunque altra casa le stesse cose possono essere tranquillamente applicate al flash in vostra dotazione. Questo è uno strumento già più professionale per un sacco di motivi, innanzitutto perché ha un pannello dove noi possiamo gestire le impostazioni del flash separatamente da quelle della macchina e quindi possiamo andare più in profondità e fargli fare più cose. Inoltre abbiamo una potenza maggiore e ultimo ma non meno importante abbiamo la possibilità di orientare la testa, per questo si chiama cobra perché sembra la testa di un serpente cobra. Il fatto di poter dirigere il nostro fascio luminoso fa tutta la differenza del mondo perché noi non stiamo più scattando con questo puntato in faccia al nostro soggetto ma possiamo per esempio puntarlo all'indietro e quindi la luce rimbalzerà sul muro sul pannello riflettente alle nostre spalle per poi tornare a illuminare il soggetto con un effetto decisamente più gradevole, comunque con un effetto diverso. Sarà un qualcosa di ragionato su cui potremo intervenire direttamente invece di essere in balia dell'automatismo del flash sulla macchina. Ovviamente i flash speedlight non sono gli unici dispositivi che possiamo usare. Adesso vi faccio vedere questo ragazzone qui. Questo è un Godox QS400 seconda versione, un flash da studio di dimensioni giganti e credo che sia stato il primo flash da studio che ho acquistato in vita mia. Come potete vedere qui abbiamo un bottone di sgancio e andando a rimuovere questo coperchio vedete che qui sotto abbiamo un vetro di protezione che nasconde il nostro bulbo che è quello che poi va effettivamente a far scattare il lampo flash. Abbiamo anche la possibilità di avvitare qui dentro una lampadina per la luce pilota. In questo momento non c'è, non lo so perché non c'è, non l'ho mai avvitata, forse si è guastata. Io le luci pilota le uso poco. Ad ogni modo spero che riusciate a vedere, qui c'è una filettatura che si chiama Bowens, è una baionetta su cui noi possiamo andare a innestare degli accessori. In questo caso io sto innestando la copertura che mi permette di trasportarlo in giro senza fargli prendere urti perché ovviamente la parte in vetro è molto fragile. con questo montato su non corriamo questo pericolo. Questa è una luce da studio che funziona con la corrente, quindi come potete vedere qui abbiamo un bel pannello dove abbiamo l'attacco della corrente e manopole bottoni con cui possiamo impostare il nostro flash. Flash di questo tipo possono funzionare sia via cavo sia wireless. Quindi io ho la possibilità di attaccare un cavo, attaccarlo direttamente alla mia fotocamera. Si faceva una volta così, io l'ho sempre trovato di una scomodità incredibile, per cui sono molto molto contento che ci sia la possibilità di gestirlo anche via wireless. In particolare tramite questo, questo piccolo dispositivo di cui io non posso più fare a meno quando sono in studio, questo è l'X Pro-C di Godox, quindi è un trigger fatto apposta per i flash di Godox e solo per i flash di Godox. Ovviamente se abbiamo un altro brand dobbiamo andare su un altro brand, esistono dei compatibili ma francamente ve li sconsiglio perché costano uguale. Quindi andiamo a prendere il trigger apposta per i nostri flash. Il bello di avere un trigger è che abbiamo una pulsantiera e quindi possiamo comandare tutti i nostri flash direttamente da qui senza più doverli toccare. In certi casi questo è assolutamente essenziale perché non dobbiamo più toccare niente in studio una volta che abbiamo impostato determinate cose. Salendo ancora di più nella catena alimentare vi faccio vedere questo. Questo qui è probabilmente il flash più bello che ho qui in dotazione in questo momento. Questo qui è il Godox AD400 Pro, è un flash a batteria, quindi come potete vedere qui si innesta in questo modo, si attaccano i pin e poi si schiaccia e quindi questo è come si presenta il flash finito diciamo. Come potete vedere qui di nuovo ha un display molto discreto, è una pulsantiera con una rotella con cui possiamo impostare tutte le nostre opzioni. La particolarità di un flash come questo è che come detto funziona tramite batteria. Quindi qual è la differenza tra i flash che abbiamo visto finora? Quello sulla fotocamera viene sempre con noi, è una sicura d'errore, ci serve in caso di emergenza ma non ci possiamo fare veramente granché. Lo speedlight funziona con le batterie ricaricabili o le batterie stilo, dipende dal tipo di flash che abbiamo. Ce lo possiamo portare sempre dietro, occupa poco spazio ma comunque ne occupa e ha anche un suo bel peso. Un flash da studio come visto pesa molto di più, l'SQ402 pesa tanto ed è molto molto ingombrante e ha bisogno di uno stativo, di uno stand su cui essere inforcato, non possiamo andare in giro con quello in mano, cioè sì possiamo anche ma è un disastro. Nel caso della D400 Pro noi possiamo anche andare in giro tenendolo in mano se abbiamo un assistente che ce lo regge e guardate non è inusuale perché quando si scatta in esterna, quindi questo è l'ideale in questi casi, io voglio un flash da studio potente e differenza di potenza è notevole, il flash sulla camera è poco potente, questo è media potenza, questo è abbastanza potente e poi ce ne sono di potentissimi che non ho e quindi non ve li faccio neanche vedere, stiamo salendo di potenza. Se io voglio portarmi questo in esterna posso anche tenerlo a mano, un assistente che me lo tiene a mano e così bypasso anche il regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, sapete che se io porto un flash come questo e metto uno stand in terra se passa un agente mi può multare perché sto facendo un'occupazione di suolo pubblico, se invece ho un assistente che me lo tiene in mano nessuno mi può più dire niente perché non sto occupando suolo pubblico, sto solamente usando un assistente che tiene in mano questo. Quindi ricapitolando, vantaggi del flash sulla macchina? Nessuno. Vantaggi dello speedlight? Sicuramente portabilità, la possibilità di orientare la luce come meglio crediamo e la possibilità di gestire il flash in manuale. Vantaggi delle luci da studio? Qui ve ne faccio vedere un'altra, una maggiore potenza, una pulsantiera dedicata più grande con cui possiamo fare più cose, la possibilità di montare dei modificatori. Qui ve ne faccio vedere uno, questa qui è un'altra luce su cui qui sì che è montata la luce pilota, quindi abbiamo la luce flash e la luce pilota. Su questa che vi faccio vedere, questa qui è una SK402 sempre di Godox, è un'altra luce flash paragonabile a quella che abbiamo visto prima ma è più piccola, più leggera e costa meno e l'ho presa dopo, è stato molto vantaggioso perché ci sono delle differenze ma sostanzialmente per quello che le uso io fanno la stessa cosa. Questo è un modificatore, questo non è una copertura, questo è uno snoot, non so se riuscite a vederlo bene, praticamente è un modificatore che convoglia la luce in un fascio molto sottile. Su una luce da studio come questa io posso montare diversi modificatori, posso montare dei softbox, un octabox come quello che sto usando adesso che mi illumina direttamente. Tenete conto che le luci da studio senza modificatori non sono un gran che belle, quindi sono i modificatori che fanno a gran parte della differenza e che ci danno una luce più bella. Quindi la possibilità di montare i modificatori con la baionetta Bowens sulle nostre luci da studio è quello che ci dà la qualità della luce. La torcia ci dà la potenza, il modificatore ci dà la qualità, quindi è molto importante. Sullo speedlight è più difficile avere un modificatore, è possibile ma è più difficile, esistono dei modificatori che si possono applicare qui davanti ma saranno comunque più piccoli e ci renderanno comunque meno stabile il tutto, quindi è più difficile da fare, più difficile ma più economico. Invece se vogliamo una situazione da studio con dei modificatori grossi avremo una qualità maggiore, costeranno un pochino di più. Arrivando sulla D400 Pro questa è sostanzialmente una luce da studio con la possibilità di avere modificatori e tutto quanto, però essendo a batteria funziona sia in interno che in esterno. Questa noi possiamo portarcela in giro per la città, per un bosco dove cavolo vogliamo e possiamo fare delle foto con una potenza di luce da studio in esterna. attenzione bene, se la montiamo su uno stativo mettiamo i sacchi di sabbia sotto lo stativo perché una luce come questa montata su uno stativo basta un colpo di vento, il modificatore grosso prende vento come se fosse una vela e questo cade e si rompe, quindi da farci un po' di attenzione è assolutamente da evitare. Bene amici, con questa panoramica spero di avervi fatto vedere un pochino quali sono le diverse possibilità che abbiamo quando vogliamo decidere di acquistare una luce da studio. Come avete visto non sono poche le possibilità, le luci da studio sono tante, io vi ho fatto vedere alcuni modelli, esistono brand diversi più o meno costosi, quindi c'è una miriade di cose tra cui scegliere. A questo punto io vi direi, vi lascio spazio come sempre nei commenti, fatemi sapere se avete trovato utile questa panoramica, se volete chiedermi consigli sull'acquisto di flash in mio possesso vi posso rispondere sapendo bene quello che vi dico. Se mi fate domande su flash che non conosco cerco di guardare le specs e di rispondervi però tenete conto che se non le ho mai provati prendete con le pinze la mia risposta perché tiro a indovinare, guardo le specs e tiro a indovinare, quindi io vi consiglio sempre di provare queste cose prima di comprarle perché poi una volta comprate, sì certo le rivendete ma qualcosa ci smenate sempre, quindi fate attenzione, non fidatevi di me, non fidatevi di nessuno, provate le cose prima di comprarle perché poi una volta che pezzo toccato pezzo giocato. Detto questo amici io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e rimanete aggiornati sulle prossime uscite che riguarderanno ancora i flash soprattutto se continuate a dirmi nei commenti che vi interessa l'argomento. Spero che abbiate capito qual è la gamma di prodotti tra cui potete scegliere ma nel caso non fosse così fatemi la domanda specifica col vostro caso e vi risponderò quanto prima con uno shorts verticale. Come sempre io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao Grazie a tutti.